ciao a tutti amici softgun oggi c'è mi è arrivato mi sono arrivati questi due pacchi che fanno fanno parte di un ordine unico vi avviso subito dall'inizio che in questo ordine arriverà un altro pacco che di questo ordine arriverà un altro pacco però preferisco dividere video in due così vi faccio vedere meglio le cose allora questo pacco mi arriva mi è arrivato la safra ho approfittato degli sconti del periodo invernale c'è del periodo natalizio è comunque anche dei vent'anni del sito del negozio che altro allora andiamo subito ad aprirlo in questi due pacchi vi dico già che ci sono prevalentemente degli accessori non ho mai comprato da safra non ho mai non è mai stato non c'ho mai comprato però ho colto l'occasione per comprare delle cose per dei miei compagni di squadra che erano in sconto e approfittando anche dei molteplici sconti che ci forniva il sito questo pacco lo apriamo dopo allora apriamo troviamo giornali 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 abbastanza protetto ovunque il pacco buono e troviamo subito possiamo vedere una batteria 1.600 8.4 per calcio crane caricatore per batterie con anche scarica carica batterie molto bello per proteggere le nostre batterie poi troviamo dei cobriris tan preme mk14 molto belli della big dragon poi una cinghia a un punto tan della royal la versione migliorata la royal plus credo e infine troviamo una batteria 96 che per il ca per calcio della gente molto bella perché comunque vediamo la professionalità della marca anche dalle scatole e in confronto a quella della gene della gene gog che questa questa comunque fa la sua scena primo passo andato appena aperto troviamo gli imballaggi questi quali ci fornisce sabra credo abbastanza protetto un pacco e troviamo un flash magazine per m4 in metallo da 360 colpi della lonex che era in sconto molto bello poi troviamo un'altra batteria 8.4 1600 per calcio crane uguale a questa poi troviamo un silenziatore della big dragon economico però molto bello rifinito non c'è nulla da dire e poi qua troviamo pallini pallini quelli del sito safra vedete marchiati proprio da loro qua troviamo degli 020 biodegradabili qua degli 023 biodegradabili e degli altri 023 biodegradabili io vi consiglio sicuramente questi pallini che costano di meno e credo che mi proverò e vi dirò se sono buoni ma credo che comunque siano buoni quindi ragazzi preparatevi alla seconda parte dell'unboxing che arriverà presto e niente qui da bud per the last of gunner è tutto ciao ciao